Troppo il problema, perché insisto tanto sul fatto che oltre il 70% degli italiani sono proprietari di una casa, che non vuol dire essere ricchi, vuol dire avere una casa. Il problema qual è? Che sono tali e tante le tasse che ormai stanno gravando sulla proprietà di una casa, che ormai non è più neanche un beneficio, cioè non è più una fonte di serenità e di sicurezza per gli italiani come è sempre stata, ma diventa un costo, sempre una preoccupazione. In più, se pensiamo che il nostro mercato è crollato e che quindi anche volendo vendere una casa o dovendo vendere una casa oggi, i tempi sono lunghissimi, tocca regalarla se si spera di riuscire a venderla. Noi capiamo in quale purtroppo tunnel si è infilato quello che era invece sempre stata la garanzia di benessere, di speranza e di sicurezza delle famiglie italiane.